Emanuele Ferragina, direttore scientifico del Future Forum, il assunto di questi cinque giorni nelle parole chiave principali emerse dai vari incontri, nei vari forum. Sì, ci siamo impegnati a raccogliere le dieci parole che sono state più utilizzate e declinate durante queste giornate, per brevità non annoiarvi ne sceglierò semplicemente due, che secondo me sono molto importanti. La prima parola è quella di uguaglianza, tornare a redistribuire nella nostra società, e parlo di redistribuire opportunità, reddito e ricchezza, è fondamentale per poter rendere di nuovo il nostro sistema paese più efficiente. Pensate a come ci troviamo schiacciati in un paese nel quale esistono delle disuguaglianze enormi che riducono anche l'efficienza del sistema, pensate per esempio al disfunzionamento di alcuni ordini professionali. E la seconda parola che ho scelto è quella di conflitto, perché sono abbastanza convinto che se non c'è lotta, se non c'è la forza delle persone che oggi stanno perdendo da un sistema iniquo, non si riuscirà mai a riequilibrare quelli che sono i rapporti di forza nella società.